La folli ingegneria dell'aereo a razzo ipersonico X-15. Oggi l'aereo a razzo ipersonico X-15 è considerato uno dei velivoli più significativi del suo tempo. All'inizio degli anni 60, infatti, l'X-15 fece parte di una vera e propria avventura spaziale. All'epoca questo velivolo particolarmente resistente fu universalmente acclamato, tuttavia una serie di contrattempi impedì all'X-15 di raggiungere il suo pieno potenziale. Nonostante ciò, la sua straordinaria ingegneria è passata alla storia, così come i suoi impressionanti decode di velocità. Per superare le difficoltà incontrate dall'X-15 è nato l'X-15A2. Le modifiche apportate dovrebbero rendere possibile la realizzazione dell'X-15. Esse dovrebbero consentire di superare i numerosi errori segnalati. In effetti, l'aereo a razzo ipersonico X-15 è diventato il primo aereo spaziale del mondo, ma l'eredità dell'X-15 può davvero continuare a vivere. Questo è ciò che gli aerei a razzo di Virgin Orbit stanno cercando di dimostrare. Oggi l'X-15 fa ancora parte della cultura popolare. La folla ingegneria del razzo ipersonico X-15 ha davvero influenzato l'industria aerospaziale di oggi? All'inizio degli anni Sessanta fu costruito l'aereo a razzo ipersonico X-15. Fu l'inizio di una grande avventura spaziale per un velivolo straordinario. Inizialmente su Hitek ci interessiamo alla storia della progettazione di questo aereo a razzo. Si tratta di un aereo sperimentale per il volo suborbitale proveniente direttamente dagli Stati Uniti. Costruito nell'ambito di un programma di ricerca sui voli ad altissima velocità a quote molto elevate rappresentava le speranze dell'industria aerospaziale dell'epoca. Tra il 1960 e il 1968 i tre esemplari costruiti effettarono circa 200 voli di prova per la NASA e l'aeronautica militare a Stati Uniti. L'X-15 ha addirittura superato i limiti del volo ad alta velocità con equipaggio. È vero che il dopoguerra è stato un periodo particolarmente favorevole per le grandi innovazioni del campo dell'aviazione. Nell'ottobre del 1947 l'aviatore americano Chuck Yeager divenne il primo uomo a superare Mach 1. All'inizio degli anni 50 l'aeronautica sottunitense e la NACA, il predecessore della NASA, si trovarono ad affrontare una sfida importante, infrangere la prossima barriera del suono. Si tratta di Mach 4, tanto più che stavano comparendo i primi caccia supersonici, aumentando la concorrenza nel settore dell'aviazione. Il progetto X-15 fu quindi accettato nel 1954. Gli obiettivi erano semplici, raggiungere un'altitudine di 75 km, una velocità di 7200 km orari e resistere a temperature superiori a 650 gradi centigradi. Nel novembre del 1955 il costruttore americano di aerei aerospaziali e militari North American fu scelto per produrre l'X-15. La propulsione dell'aereo fu affidata al Reaction Motors. L'X-15 è lungo 15.47 metri e ha un'apertura alare di soli 6.81 metri. E' quindi essenzialmente costruito da un grande serbatoio, con un pilota a un'estremità e un motore a razzo all'altra. Ha anche un cilindro centrale, una fusuliera aerodinamica, due piccole ali e una serie di quattro alettoni mobili nella parte posteriore. L'X-15 è stato trasportato sotto l'ala di un bombardiere B-52 fino a quando non è stato staccato ad un'altitudine di quasi 12 km. Aveva quindi un alettone sotto l'aereo che doveva essere sganciato poco prima dell'atterraggio. Gli ingegneri hanno quindi sostituito il carrello posteriore con una coppia di grandi guide che vengono cambiate a ogni volo. In questo modo si è risparmiato spazio e si è ridotta la complessità dell'X-15. Allo stesso modo l'aereo è dotato di un gran numero di propulsori di quota che consentono di governarlo durante le fasi di volo nell'alta atmosfera. Tutto questo richiede materiali molto resistenti. Tuttavia una serie di contrattempi sta impedendo all'aereo a razzo ipersonico X-15 di raggiungere il suo pieno potenziale. Con l'avanzare dello sviluppo e l'avvicinarsi dei primi test dell'X-15 è diventato chiaro che il motore XLR99 non sarebbe stato pronto in tempo. Gli ingegneri decisero quindi di utilizzare una coppia di XLR11 come sostituti. Questi modelli spinsero l'X-1 oltre la barriera del suono. Di conseguenza il 10 marzo 1959 il pilota Albert Scott Crossfield pilotò l'X-15 per la prima volta. Durante i primi test l'aereo rimase sotto l'ala dell'aereo vettore. L'8 giugno dello stesso anno le squadre decisero che era finalmente giunto il momento del primo volo libero. I motori non erano ancora accesi. Prima di ogni altra cosa era necessario verificare che l'X-15 volasse correttamente. Poiché le sue prestazioni erano soddisfacenti, il secondo dei tre velivoli volò per la prima volta. Solo il 17 settembre 1959 avvenne la prima accensione del motore in volo. La velocità era tale che il pilota dovette ridurre al massimo la potenza del motore per poter controllare l'aereo. Inoltre, un incidente al motore avvenuto all'inizio di novembre con un XLR11 causò un atterraggio difficile. La fusoliera dell'X-15 è stata danneggiata. Il programma era quindi in ritardo di tre mesi rispetto alla tabella di marcia. Nonostante ciò, l'aereo razio ipersonico X-15 continuò a tenere successi. Come avrete sicuramente capito, l'ingegneria dell'X-15 gli ha permesso di battere alcuni impressionanti record di velocità. L'11 febbraio 1960, Albert Scott Crossfield raggiunse un'altitudine di 27 chilometri. Inoltre, i due X-15 volavano circa una volta ogni 10 giorni. Il 12 maggio dello stesso anno, il pilota collaudatore americano Joe Walker raggiunse per la prima volta Mach 3.2. A novembre, il nuovo motore entrò nel loop. L'XLR99 permise di raggiungere nuovi traguardi, soprattutto in termini di velocità. Nel 61, i piloti dell'X-15, tra cui Neil Armstrong, superarono Mach 5 e addirittura Mach 6 nell'alta atmosfera, che corrisponde a circa 6.500 chilometri orari. Anche il pilota William Joseph Knight era sotto i riflettori in quel periodo. Egli riuscì addirittura a spingere l'X-15 all'incredibile velocità di 7.273 chilometri all'ora. Questo stupefacente risultato lo rese il detentore del record mondiale di velocità aerea. Ancora oggi ritiene questo titolo. Tra il 1962 e il 1963, il numero di voli di prova dell'X-15 continuò a crescere. Il 17 luglio 1962, il pilota americano Robert White superò le 50.000 d'altitudine. Tra luglio e agosto del 1963, due voli superarono i 100 chilometri d'altitudine. Grazie a questa impresa, l'aereo a razzo ipersonico X-15 divenne il primo aereo spaziale del mondo. Inoltre, dopo le varie vicissitudini dell'X-15, gli ingegneri dovessero ricostruire alcune parti dell'aereo. Nasce così l'X-15A2. È in grado di raggiungere una velocità di Mach 8. Per aumentare le capacità di carburante dell'aereo, la fusuliera fu allungata. Vennero inoltre installati due serbatoie esterni supplementari. Per consentire all'X-15 di resistere alle temperature più elevate del previsto, è stato ricoperto con un ulteriore strato di isolamento. D'ora in poi, solo la parte inferiore verrà espulsa in volo. Per questo motivo è stato necessario aumentare la distanza dal suolo. Sono stati installati nuovi scomparti per trasportare il maggior numero possibile di attrezzature. Infine, l'X-15A2 pesa 10 tonnellate in più dell'X-15. Ciò significava che il carrello di atterraggio doveva essere rinforzato. I primi voli di prova furono segnati da diversi incidenti in quest'area. Il carrello di atterraggio infatti tendeva a dispiegarsi a metà volo. Dopo aver raggiunto una serie di record di velocità, la temperatura soprafficiale è raggiunto i 1300 gradi previsti. Questo ha causato gravi danni a una parte della cellula. Sebbene la North America ne riuscì a riparare l'aereo, questo non riprese mai più a volare. L'eredità del razzo ipersonico X-15 può davvero continuare a vivere? Almeno questo è ciò che Virgin Orbit ha cercato di dimostrare con il suo progetto di aereo a razzo. Con la sua piccola società di lancio di satelliti Virgin Orbit, il miliardario Richard Branson sperava di sviluppare una soluzione per il lancio di satelliti in orbita. Per questo sta utilizzando un modello di razzo davvero non convenzionale. Stiamo parlando di razzi aerei. Il funzionamento è molto semplice. Un aereo decolla con un piccolo razzo sotto la fusoliera. Una volta in quota, il razzo si stacca e prende il controllo. Purtroppo, i risultati di Virgin Orbit non sono stati all'altezza. Dei sei tentativi di mettere in orbita dei satelliti, solo quattro hanno avuto successo. Inoltre l'azienda ha incontrato una difficoltà finanziaria dopo l'altra. Oggi il progetto è definitivamente concluso. Ma l'X-15 fa ancora parte della cultura popolare. Il creatore del fumetto Buck Danny, John Michael Carlier, ha assistito al volo di Neil Armstrong a bordo dell'X-15. Decise quindi di far partecipare il suo eroe ai voli di prova dell'X-15. Questa avventura fu pubblicata su Le Journal des Piro dal 1963 al 1964. L'X-15 è stato poi protagonista di numerosi film e serie televisive. Si può davvero parlare di un'eredità immortale dell'X-15? Questo aereo a razzo ipersonico ha spinto indietro i limiti dell'aviazione e ha convalidato nuovi concetti. Tuttavia poneva alcuni problemi di sicurezza. Ma negli anni 60 questo sembrava essere il prezzo da pagare per lo sviluppo di un programma innovativo. L'X-15 era davvero utile all'industria aeronautica. Comunque sia, il modello di aereo a razzo è tutt'altro che morto oggi. Molti razzi decollano ancora e vengono lanciati da aerei portaerei. Alcune aziende come Virgin Galactic sono ancora aggrappate all'idea di un razzo aereo da turismo. Lo sviluppo del razzo ipersonico X-15 ha segnato l'inizio di un'avventura spaziale. Il suo design speciale lo rendeva un velivolo ultra resistente. Tuttavia, una serie di contrattempi ha impedito all'X-15 di dimostrare il suo vero potenziale. Ciò nonostante vantava un'ingegneria eccezionale e record di velocità impressionanti. Divenne persino il primo aereo spaziale al mondo. L'arrivo dell'X-15 A2 cambiò anche il volto dell'aviazione. Nonostante il progetto si concluse presto, l'eredità dell'X-15 è riuscita a durare nel tempo. Questo è ciò che Virgin Orbit ha cercato di dimostrare con il suo progetto di aereo a razzo. L'X-15 è persino parte della cultura popolare. Si parla addirittura di una sorta di eredità immortale. Cosa riserva il futuro agli aerei a razzo?